I finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato un uomo italiano fermato per un controllo documentale che deteneva sui sedili posteriori dell'auto circa 34 kg di marijuana e 100 g di hashish. Ad insospettire i baschi verdi fiorentini che stavano effettuando un controllo del territorio è stato uno strano comportamento del conducente dell'auto nel traffico, notato il quale i militari hanno deciso di avvicinarsi al veicolo per un controllo. La parte posteriore dell'auto era completamente occupata da ingombranti pacchi in parti aperti e durante il controllo dei documenti dell'autovettura e della patente di guida del conducente i finanzieri hanno cominciato ad avvertire uno strano odore provenire dai cartoni. A quel punto hanno deciso di verificare il contenuto scoprendo così al loro interno numerosi bustoni contenenti i 34 kg di marijuana nonché un etto di hashish. L'uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato nel carcere di Sollicciano.